Ciao fragoline, ciao fragolini. Allora, come leggete dal titolo, questa è la seconda parte del Paralesi del Sonno. Ho già fatto la prima parte dove praticamente vi spiego in quel video che cos'è, che cosa mi è successo. Questa è la seconda parte perché vi voglio dire il continuo e se mi succede ancora. Ovviamente l'unico giorno che per il momento meno male è successo è stato il 28 novembre di domenica. Non ho avuto tempo a fare il video prima, ma voglio raccontarvi che cosa è successo questo giorno di domenica e per fortuna appunto non mi è ancora successo ancora niente, in senso che non ho avuto più incubi o diciamo non mi è successo ancora. Per cui, per fortuna, io dico per fortuna perché è una cosa un po' diciamo brutta da, come dirvi, da avere, da non so come spiegarvi. Comunque adesso vi spiego un po'. Se per caso non avete visto il video, mi sto già impappinando, vi racconto brevemente, spero di farlo brevemente, vi spiego più o meno che cos'è. Però andate a vedere la seconda parte che lì vi spiego bene. Allora, prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, seguirmi su Instagram, qui o qua non lo so dove lo metto, lasciarmi un like così farò la terza parte se questo video è utile e vi interessa, come ho fatto con la prima parte e un commentino qua sotto se anche voi vi succede questa cosa e se anche voi avete questi paralisi del sonno. Per cui iniziamo e vi spiego cosa è successo il 28 novembre di domenica. Ok, allora, vi spiego in brevemente quello che è successo appunto domenica, il mese di novembre. Allora, io stavo dormendo. Ovviamente paralisi del sonno è appunto, io lo chiamo incubo, ma non è un incubo. È una cosa che tu vedi, che tu senti e tantomeno non riesci a credere che sei intrappolata appunto in questo sonno e che non riesci a proprio fare niente. È una cosa un po' brutta perché se tu ce l'hai e se tu subisci questa cosa, vi assicuro che potete morire, ma proprio davvero morire. Non è una cosa che dici puoi superarla. No, perché c'è gente che è morta per questa cosa, questo paralisi del sonno, per cui è praticamente un demone, in poche parole, che ti blocca il sonno, per farvi capire. Comunque se voi andate su internet, su Google e cercate paralisi del sonno, vi spiega tutto. C'è il demone, vi spiega tutto quello che io vi sto dicendo, che non è una balla. Allora, erano le due e un quarto, due e tredici di notte. Era proprio tardi, cioè stavo dormendo, il mio ragazzo era accanto a me perché dorme con me e calcolate che stavamo dormendo tranquillamente. Io all'inizio stavo dormendo normalmente e poi succede che alle due e quindici di notte ho sognato di non riuscire a svegliarmi e c'era una voce che parlava, però secondo me era questo demone perché all'inizio pensi che sia qualcuno che conosci quando sogni, ma non è un sogno quello che vedo, quello che appunto subisco. E ogni tanto c'erano quelle scosse, come se tu cerchi di muoverti, ma il tuo corpo non si muove, ma tu pensi che nella tua mente lo fai. Ovviamente non riuscivo a svegliarmi, non mi faceva svegliare, ero praticamente bloccata. E bloccata in poche parole come se ero intrappolata. Dopo un bel po' sono riuscita a svegliarmi, ma dopo un bel po', calcolate che questa cosa... Allora, ho scritto il bigliettino perché appunto è passato un bel po' di mesi quando è successa questa cosa, per cui l'ho scritto. Cioè, in poche parole, quando mi è successo, in quel giorno, io dopo che mi sono svegliata e sono riuscita a svegliarmi, io ho preso il mano e il telefono e ho scritto quello che è successo. Perché all'inizio non ci credevo. È da più di due o tre anni che va avanti sta storia. E all'inizio io non ci credevo perché pensavo che erano dei incubi, dei sogni. Io diciamo che se vedo un film horror... Vabbè, il thriller no, ma un film horror sì. Se vedo un, diciamo, un film horror che mi fa paura, no? Io ho gli incubi, non riesco proprio a dormire perché poi mi ritrovo quella persona che mi vuole ammazzare. Cioè, io ve lo dico chiaro intorno. Questo, questo è. Per cui potete prendermi in giro, ma io vi dico la verità. Però non è questo. È un'altra cosa la paralisi del sonno con le cose di horror e i film che guardo. È proprio completamente diverso. Questa cosa si forma, in poche parole, quando tu sei nervosa, stressata, hai, diciamo, tante cose nella mente che hai paura, no? In quello che deve succedere nella tua vita e quello che succederà. E allora cosa fai? Per colpa di questa cosa, che è chiamata paralisi del sonno, in poche parole, quando tu pensi di dormire, cioè, tu dormi, in poche parole, ma, cioè, per farvi capire, io ero nel letto. All'inizio c'era questa voce che mi diceva qualcosa, non mi ricordo adesso. Questo coso, che non so, era tipo nero, non so come spiegarvelo, si avvicinava piano piano. Io ero lì nel letto, infatti guardavo questo, ma all'inizio capivo che ho detto, va, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so sognando. Invece no, perché tu, quando sei nel letto, che cerchi di, ad esempio, io cercavo di chiamare il mio ragazzo dentro nel sonno, dicendomi, aiutami, guarda che c'è qualcuno lì, no? Io lo chiamavo, urlavo, cercavo di urlare, ma non lo stavo facendo, infatti lui non se ne accorgeva di niente, perché, cioè, mi dice, sta dormendo. Infatti ho la registrazione, io ho una telecamera vicino nel letto, che riprende 24 ore su 24, perché così almeno vedo la mia reazione, no? Se sto dormendo oppure no. E quando ho visto, ovviamente, il filmato, alla fine è come se io stavo dormendo. Ma nella realtà, dentro il mio corpo, io dormivo, ma pensavo che ero sveglia. Vabbè, questa cosa io l'ho già spiegata nell'altro video, per cui non so se mi piace tanto rispiegare di nuovo la stessa cosa, anche perché non voglio che dura tanto questo video. Ma voglio spiegarvi, più o meno, che c'è il continuo, che ce l'ho ancora, questo paralizzo del sonno, che non riesco a tirarlo via, ogni tanto arriva, ogni tanto non ce l'ho. E ogni volta che arriva, io sono in letto, dormo tranquilla, a un certo punto penso di fare qualcosa, di urlare, appunto, anche al mio ragazzo, dicendogli, guarda, aiutami, sto cadendo, o qualcosa del genere. Ma invece non lo sto facendo. E allora io cerco di muovermi, di stare... Infatti ci sono gli occhi, ho notato anche gli occhi, che si muovono velocemente. I miei occhi si muovono velocemente quando tu dormi. E quando gli occhi si muovono velocemente e tu cerchi di svegliarti e il corpo è proprio paralizzato, che non riesci proprio a muoverti, e tu cerchi il possibile di farlo, non riesci, è difficile, perché sei bloccata. E lì ogni tanto io ho paura, perché ogni tanto non riesci a farlo. E se non riesci a farlo, che sei proprio bloccata, che non riesci a svegliarti, puoi andare in quel posto dove non c'è più nessuno. E non vi dico questo tanto per dire, ma non è uno scherzo, è una cosa vera. per quello che quando uno dorme, che è intrappolato, deve svegliarsi. Se non si sveglia, non si sveglia mai più. Per cui, io in tutti i modi cerco sempre di svegliarmi. Infatti ho guardato su internet come riuscire a svegliarsi in pochi secondi, perché calcola che potete durare... Cioè questa cosa può durare anche un minuto, due minuti. E il tuo cervello dopo fa fatica, perché quando ti svegli ti viene un mal di testa, che pensi, dici cavolo non voglio più dormire. Infatti quando io mi sveglio, che riesco a svegliarmi, cioè io sono così agitata, nervosa, perché dico cavolo, mo se mi arrivi a dormento, succede ancora. È quella la paura, perché poi se non riesci a svegliarti, appunto non ce la farei più. Il metodo che c'era scritto su Google, c'è scritto su Google, e mi ha aiutato molto quando succede questa cosa, è di muovere gli occhi, muovere i piedi, e cercare di muovere il corpo, riuscire a darti forza e non mollare e non mollare praticamente andando avanti così, in poche parole, per cui tu devi muovere forte gli occhi, cercare di aprirli, di svegliarti. Questo è più o meno il metodo che io faccio. Diciamo che è un po' difficile, perché all'inizio ci vuole un po'. Calcolate che questo dura, può durare anche un minuto, per cui ogni tanto mi dura anche un minuto, questa cosa qua, è proprio brutta. Comunque vi metto qualche foto qua, di quello che ovviamente c'è anche su internet. Il film, l'ho detto nella prima parte del video, il film come si chiama, per cui appunto se non vedete quel video non sapete il film. Comunque andate a vedere anche il film, perché sinceramente io l'ho visto una volta, mi è venuto dei brividi, perché il film racconta quello che quello che succede a questo bambino, a questa famiglia, e tantomeno che cos'è la parale del sonno. Per cui tutto quello che voi rivedete nel film è tutto quello che voi subite. E non è una bella cosa, questo ve lo posso assicurare. a me continua a fare ancora questi scherzi, io cerco ovviamente di non stressarmi tanto, di dormire almeno otto ore, di non dormire meno, e anche per il fatto del sonno appunto, e di stare calma, perché quando poi succede quelle cose lì, appunto, la paralisi del sonno, vi assicuro che non è bello da vedere. raccontatemi voi se succede anche a voi questa cosa, se cioè come la state vivendo, e tantomeno come riuscite a sopportarlo. Per cui scrivetemelo qui sotto nei commenti se anche a voi è successo questa cosa, oppure anche tramite mail. se volete possiamo fare una terza parte dove mi spiegate voi quello che succede a voi, così poi in un prossimo video io leggo quello che mi mandate tramite mail, mi mandate intanto la mia mail sempre qua sotto nei video, e mi scrivete a me è successo questo, poi se volete scrivetemelo sotto sì voglio parlare con te, voglio che questa storia la puoi parlare, puoi praticamente raccontarla nel tuo video, a me mi fa piacere diciamo fare questo video tantomeno aiutarvi, perché alla fine è meglio aiutarci a vicenda. E niente, diciamo che a me va ancora avanti questa storia, appunto non è bella, e non sto cioè per farvi capire vi posso diciamo adesso vediamo se riesco a trovare quello in cui ti aiuta a svegliare come diciamo farsi svegliare da questo incubo che per te sembra un incubo ma in realtà non è un incubo, è la vera è la vera realtà, quello che succede è vero. Scusate ma si è interrotta la clip, avevo la memoria piena del telefono, io non mi ero neanche accorta perché stavo parlando, io parlavo, parlavo, a un certo punto vedo 0, 0, 0 cioè vuol dire che non stavo registrando e io ho detto vuoi vedere che io ho parlato per niente e non mi ha registrato le clip invece una me l'ha registrata e il continuo dove io vi stavo spiegando non l'ha registrata per cui ho dovuto subito trasferire i video nel computer e così l'ho cancellato nel telefono e adesso diciamo che sta registrando allora e allora non mi ricordo più cosa stavo dicendo non mi ricordo cosa volevo dirvi per cui come sempre quando faccio i video o c'è sempre cioè o il cellulare non funziona o le clip non me le registra o si blocca o c'è sempre di tutto di più spero che prima o poi riuscirò a comprare una telecamera così non avrò più problemi perché se no poi io dimentico quello che stavo dicendo allora vi dico solo che è un demone questo quello che succede e quello che sognate per modo di dire è un demone che questo demone in poche parole vuole farvi andare vuole farvi morire in poche parole è proprio un demone che appunto cattivo che vuole fare così lui cerca di prendere attirare questo ovviamente non so cosa dirvi perché non mi ricordo più quello che dovevo dirvi e io aspetto le vostre mail in privato aspetto anche i vostri commenti qua sotto come ho detto prima fatemi sapere se anche a voi è successo non è uno scherzo e tantomeno non si scherza su queste cose se non ci credete appunto andate su google cercate e vedete che trovate quello che vi ho spiegato quello che è vero e la realtà di quello che sta succedendo io spero di riuscire a a non avere più questi questo sogno questa paralisi del sonno spero in questi mesi per il momento non le ho avuti meno male secondo me dovrebbe essere dallo stress dal poco mancanza di sonno perché si dorme poco non lo so questa cosa diciamo perché non lo so non me la so spiegare comunque a me piacerebbe parlare con voi e tantomeno scambiarci qualche consiglio qualche parola su questo questa cosa qua di quello che che sta succedendo e che va avanti ancora a succedere io spero che almeno nella nuova casa non sarà così spero che questa cosa si toglierà per sempre speriamo ovviamente vi eterno aggiornati ve lo dirò nella terza parte e niente non so questo video quanto è durato io vi io ringrazio quelli che mi scriveranno in privato mi scriveranno qui sotto nei commenti se è successo anche voi scrivetemelo anche in privato se non volete che io lo dico nel video ma scrivetevi in privato fatemi sapere che ci siete fatemi sapere che anche voi succede questa cosa così almeno non sono diciamo non sono l'unica ma poi anche per per aiutarci per cui io spero che lo fate spero che mi mandate un messaggino un commentino qua sotto un email spero che veramente fate questa cosa qua perché certi non hanno il coraggio di farla certi la fanno però non vogliono ovviamente appunto dire in un video questa cosa comunque detto questo il video finisce qua spero che è stato utile non so più cosa dire perché non ho non riesco non mi ricordo più cosa devo dirvi e niente farò la la terza parte se voi mi mandate qualche commentino qualche qualche mail se no farò il continuo poi se per caso succederà ancora detto questo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando aspetto le vostre email i vostri commenti lo dirò fino a quando non li ricevo e detto questo iscrivetevi al canale per essere aggiornati sul sul continuo di questa cosa qua noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao